Vorrei fare un ringraziamento alla società del Montenero che ogni anno ci concede il campo e quindi un ringraziamento va a loro. Poi naturalmente il secondo ringraziamento va a tutti i partecipanti che dopo 12 anni siamo ancora qua, quindi vuol dire che tutti sentono questo evento, lo sentono proprio nel cuore. Quindi un ringraziamento a tutti quelli che giocano, alla società e niente, speriamo che duri a lungo e l'importante è che uno fa queste cose per non dimenticare Simone Raffaele. Adesso noi come ogni anno daremo un presente ai genitori e speriamo di renderli felici almeno per questa serata. E niente, grazie a tutti. Tu fa il video? Grazie a tutti. Dimenticavo un ringraziamento particolare alla Croce Azzurra che anche loro ogni anno sono sempre presenti. Speriamo che in calvano mai. Ci sono sempre avuti. Ok.